Oh, Mark! È così bello! Ciao! Sta parlando con me? Non mi guarda nemmeno! Ti piace Mark? Ti sei mai vista allo specchio? Non hai alcuna possibilità! Addio! Papà, come faccio a convivere con questa? Qual è il problema, Ollie? Ho sbattuto la porta! È finita! Non potrò mai essere bella! Sorella, cos'è successo? Mamma! Se tu fossi viva, mi aiuteresti a diventare bella come lo eri tu! Basta così! Diventerò bella senza bisogno di altri aiuti! Oh no! Ollie! Smettila subito! Questo è ciò che i TikToker alla moda farebbero per l'acne? Davvero? Dove posso trovare questi fantastici cerotti? Smettila di piangere! Ho una scatola piena di cose utili! Wow! Iniziamo con la cosa più importante! Curare i brufoli! Quanto manca? Abbi un po' di pazienza! Ci sono quasi! Ecco fatto! Guarda! Sì, ma le mie imperfezioni sono ancora qui! Aspetta! Spariranno in un attimo! Mettiamo i cerotti sulle imperfezioni! E non perdiamone nemmeno una! Fatto! Rallenta! Devi dargli un po' di tempo! Guardati i filmati di Troom Zoo! Il tempo è scaduto! Possiamo togliere i cerotti! Ottimi risultati! E non è ancora finita! Elimineremo i punti neri sul naso! Applica una maschera come questa! Ora puliamo con un batuffolo di cotone! E' l'ora del college! Aspetta! Sei solo all'inizio! Io ci provo! Ehi! Ehi, Mark! Incredibile! Mi ha notata! Spostati! Il mio gruppo preferito si esibisce! Oh, non ha servito a nulla! Conserverò il poster! Olly, aspetta! Voglio aiutarti! Papà, ci penso io! Ma che succede? Sorella, non piangere! Non sarò mai bella come la mamma! Questa è la beauty box della mamma! E tu sarai altrettanto bella! Iniziamo con i cerotti per gli occhi! Un massaggio! Maschere per il viso adesive! E ora levighiamo la tua pelle! Sto per starnutire! Oh no! Non volevo! Ecco una spazzola per il massaggio del viso! E una crema speciale! Spalmiamone un bel po' e stendiamola! Cosa mi è successo? Non preoccuparti! Togli la crema! E ora i cerotti! Sento il viso tirare! Ora toglieri! Non voglio! Lo farai! Ma io non voglio! Non è una bella sensazione! Lascia che ti aiuti! No! Wow! E ora? Oh no! Abbiamo finito i prodotti! Papà! Dacci un po' di soldi! Capisco! Ecco qui! Non ti ringrazierò mai abbastanza, papà! Non tutto il portafoglio! Cos'è quella? Ma che carina! È adoro fare shopping! Dov'è la spazzola per i massaggi? Sapete dove è finita la spazzola? Scrivetelo qui sotto! Ah, che bella sensazione! Dovrei aggiornare la mia routine di bellezza! Inizieremo con... Lo sbiancamento dei denti! Prova! E ora? Tagli un po' di tempo! Allora, i miei denti sono più bianchi ora! Decisamente! Holly, le tue unghie! Ma cos'hanno? Sono un incubo! Le sistemerò! Povere cuticole! Sei completamente trascurata! Wow! Che unghie bellissime! E non abbiamo finito! Non dimenticare la pelle! Metti questi! Sei sicura? Anche l'altro! Tutti questi trattamenti sono estenuanti! Sono così bella! Holly! Che c'è? Mancano cinque minuti! Continua a sonnecchiare! Ok! Oh no! Non di nuovo! Stai bene? Brutto sogno! Ci trucchiamo? Aspetta! Prima di procedere, idratiamo la pelle! Ah, la mia pelle è così morbida ora! Esatto! Ora passiamo al trucco! Acconciamo le sopracciglia! Applichiamo il farde! Un po' di lucidalabbra! E i capelli! Ti aiuto io! Il trucco è finito! Holly, sei favolosa! Ma è questo vestito, però! Beh, troviamo qualcos'altro! Certo! Costume da bagno? No! E una parrucca? No! Andiamo a vedere nell'armadio! Questo? No! Ottima osservazione! E questo? No! Ecco un'idea! L'armadio della mamma! Fai pure, sorellina! Sei bellissima! Proprio come la mamma! Mettiti gli orecchini e vai al college! Vi presento la nuova e migliorata Holly! Ehi, Mark! Come ho fatto a non notarla? Ah, sai che problema! Vai, Mark! Ciao! Scusa per ciò che è successo prima! Acqua passata! Andiamo? Mi faresti una foto della nuova me? Mi piacerebbe molto! Ecco i soldi! Affare fatto? E il quadro è tuora! Ragazze! È la nostra occasione! Correte! Oh! Dove andiamo ora? L'uscita! Ma dove siamo? Sembra un'università! Aula! Diamante dall'altra parte! Ragazze nuove? Prendete posto! Ok! Aspetta! I banchi sono troppo semplici! Ce ne servono di speciali! Visto che non siamo studentesse normali! Apro un portale! Metterò la vernice qui! La mia tonalità preferita! Ma dov'è il secchio? Che confusione! What? Prendo altro materiale da costruzione! Dipingi qua e là! Così il banco color smeraldo è pronto! Bello! Io userò la magia delle gemme! Risultato stupendo! Robino sta tramando qualcosa! Oh no! Non quello! Non starnutire! Ce l'abbiamo fatta! Robino, ti aiuteremo noi! Tu prenditi una pausa per ora! Fatto! Sono in debito con voi, ragazze! In cosa avete trasformato i banchi? Sono fantastici! Meritate tutte una più! Ehi, Andy! Ehi, tesoro! Il nostro appuntamento è ancora valido? Cosa ne pensi di lui? Non ho ancora deciso! Dopo le lezioni di oggi? Certo! Ehi, Andy! Il nostro appuntamento è ancora valido? Hai visto? Lo sapevo! Domani dopo la scuola! Dobbiamo salvare Diamante! Se inciapa la salveremo dall'appuntamento! Ai! Stai bene? Credo di sì! Dobbiamo fare qualcosa! Le piacerà il bouquet? Ciao! Che ne pensi del nuovo design del tavolo? Il bouquet è pronto! Addio! Ehi! Questo è per te! Grazie! Ha un profumo fantastico! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Vorrei sparire! Cos'è stato? La missione è andata bene! Le mie nuove unghie sono stupende! Ma non riesco a sentire alcuna ammirazione! Smeraldo? Sì! Che strano! Rubino, non noti niente di nuovo? Diamante, stai bene? Smeraldo, mi faresti una bella foto alle unghie? Grazie! No? Qualcosa non va! Lo so! Manca un nuovo braccialetto! Avvolgi il filo per gioielli su una base per unghie a forma di cristallo! Aggiungi una texture con le pinze! E altri cristalli! Aggiungi le gemme sugli anellini! Il braccialetto è pronto! Una foto perfetta! Condividiamo su Instagram! Cosa? Tre like? Com'è possibile? Rubino! Sul serio? Ma a chi piacerebbe? Non importa! L'importante è che funzioni! Oh! Anch'io voglio essere alla moda! L'allenamento di oggi è stato faticoso! Ehi, ragazze! Ciao! Qualcuno ha bisogno di una doccia! Una cosa? Una doccia di gemme è molto diversa da una normale! Wow! Ciao! Ciao! Non abbiamo tempo! Abbiamo un servizio fotografico da fare! Che tipo di fatto vorreste? Voglio quelle di lusso! No! Splendide! È la parola giusta! Divertenti! Capito! Sorridete e guardate nella macchina fotografica! Vediamo come sono venute! Sono scioccato! Possiamo dare un'occhiata? Sono delle vere e proprie gemme! Sai, abbiamo fatto le nostre pose migliori! Mi piacciono! La chiusura è bloccata! Oh no! Ecco fatto! Oh no! Un terremoto! Si salvi chi può! Rubino, calmati! Ti prego! Raccoglierò tutte le graffette! Oh wow! E io farò un raccoglitore! Siete molto gentili! Usiamo molta vernice! Rivesti un contenitore per graffette con vernice acrilica! Non ci sono abbastanza gemme! Decora con cristalli! Wow! È meraviglioso! Un vecchio armadietto impolverato! Cos'è questo? Ragazzi, sapete come si chiama questa cosa? Scrivetelo qui sotto! Ho dimenticato qualcosa! Ciao! Dov'è il tuo pranzo? Volevamo mangiare un boccone! Pranzo! Ecco cos'è! Ecco cosa puoi fare! Prendere appunti! Non dimenticare la cena e il rossetto! Grazie! Sei molto gentile! È l'ora della lezione! E ha dimenticato gli appunti! Ho dimenticato qualcosa! Gli appunti? Perfetto! Grazie! Meglio fare un astuccio! Non potrei essere più d'accordo! Taglia la sagoma di un cristallo dal cartoncino olografico! Tieni! Ti sarà utile! Incolla la gomma piuma glitterata! Prepara una busta e inserisci i bigliettini! L'astuccio è finito! Non esattamente! Aggiungi una catenella così sarà sempre al tuo fianco! Grazie! E se facessimo un nail party? Forte! Incredibile! Sono loro! Le ragazze gemme! Sono la vostra fan numero uno! Posso avere i vostri autografi! Ma certo! Ops! Spazzatura! Aggiusto la matita! Ma! Aspetta qui! Ho bisogno di uno spazio di lavoro! Questo banco andrà bene! Va rubici! Ritagliamo il cristallo dal cartone olografico usando una sagoma! Senza fretta! Fatto! Temperino? Ecco a te! Attaccalo al temperino! Nastro! Decora la parte inferiore con del nastro metallico! Temperiamo la matita e facciamo un autografo! Questa è per te! È un temperino di smeraldo come ricordo! È così sensibile! Ha bisogno di aiuto! Stai bene? Grazie mille! Buon compleanno a me! Evviva! Dove sono i miei regali? Ops! È il tuo compleanno! Non lo sapevamo! Quindi niente regali! Sono così triste! Dovremmo pensare a qualcosa! Lo so! Taglia una gomma da cancellare e ricoprila di pigmento verde perlato! Ti aiuteremo! Una catenella? Attacca gli accessori per gli orecchini! Fatto! Come possiamo presentarglieli? Vi aiuto io! Ecco qua! È fantastico! Signorina Molly! Buon compleanno! È per me! Significa molto per me! È il miglior regalo di compleanno in assoluto! Oggi avrete un esame! Il tempo inizia ora! Posso fare una pausa bagno? Fai pure se ne hai bisogno! Dove nasconde il migliettino? Un portale! Ecco il ciondolo! Proprio quello che ci vuole! Qual è la risposta alla quarta domanda? Ah! Sono tornata! Con un bigliettino che contiene tutte le risposte! Che cos'è? Sento che qualcuno sta copiando! Scansione bigliettini! Oh no! Ops! Bigliettino rilevato! Il test è finito per te! Non lo farò più! È una follia! Ho finito! Le vacanze! Finalmente! Il divertimento è iniziato! Cominciamo con l'altalena! La recreazione è fantastica! Eccovi qui! Beccate! Tornate nel quadro! Subito! Ma dove siamo? È un incubo! Questo posto ha bisogno di una bella pulizia! Dovremmo costruire una stanza segreta qui! Farò uno schizzo di un progetto! Ci serve un posto per diamanti, rubino e per me! Fammi vedere! Fatto! Che ne dite? Costruiremo un secondo piano per te! Il letto sarà qui! È davvero confuso! Ma dove andate? Ha trovato una scala! È io il materiale! Vi aiuto a pulire! Sbarazziamoci di questa roba! Ti do una mano! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Iniziamo a costruire la struttura! Porterò altro materiale! Ci siamo quasi! Sono così pesanti! Fate pure! Se non avete altro da fare! Tu tieni e io stringo le viti! Ha funzionato! Posso provare? Certo che sì! Ci sta impegnando molto! Ce l'abbiamo fatta! Dobbiamo solo mettere la struttura al suo posto! Spostiamola! Perché fate tutto questo? Perché non usare la magia delle gemme? È molto più facile! Provate! Ups! Il secondo piano è mio! Scordatelo! Il secondo piano è mio! Sasso, carta, forbici! Viene sempre il sasso! Prima! Oh no! Ti fermo io! Il secondo piano è mio! Il secondo piano è mio! È troppo alto! Non posso salire senza aiuto! Mi serve uno sgabello! No! Lo sgabello non serve! È inutile! Diamante! Non ti agitare! Ti faremo una scala! Fatto! Wow! Una vera scala! Qualcosa è andato storto! Ovvio! Devi attaccare la scala! Fatto! Siete così gentili! Il rosso è il mio colore preferito! Riverniciare è un'ottima idea! E io dipingerò tutto con il potere della magia! Un gioco da ragazzi! Wow! Mi servirà un materasso! Vi piace? È troppo bianco? Mi serve un materasso! Quel materasso è mio! Ora è mio! Ridammelo! Non lo farò! Fai pure! Ma ti aspetta una sorpresa! Ai! Questo materasso è scomodissimo! Smeraldi! Ecco perché! Oh già! Sono miei! Io avrò il materasso più comodo! Oh cavolo! Non ho un materasso! Non piacere! Anche tu avrai un materasso! E una coperta! Grazie! È stato un piacere! Il mio letto è pronto! Manca qualcosa! Lo so! È proprio quello che mi serve! Ehi! Che ne dici di scambiare un anello per il tuo velo? Un vero diamante? Affare fatto! Puoi avere il velo! Il velo fa da bellissimo baldacchino! Aggiungerò un po' di luce! Questa illuminazione non è sufficiente! Apriamo un portale! Ciao! Prendo il lampadario di diamanti! Certo! Ma chi paga? Basta per dieci lampadari! Sono ricco! Ottimo! Perfetto! Wow! Anche a me servirebbe un lampadario! Un retale! Ancora! Ecco! Perché la carta igienica? Riprenditela! Sono stufo dei portali! Ha davvero bisogno di aiuto! Che c'è? Non ci sono più diamanti! Voglio questo! Puoi prenderlo! Grazie! Rubino? Questo è per te! Wow! Grazie diamante! Questa lampada è meravigliosa! Piacere, Micho! Come fare una lampada di Smeraldi? Incantesimo di crescita! Ha funzionato! Wow! Voglio anch'io far crescere una lampada di Rubino! Rubino, trasformati in lampada! Oh no! È fallito! Non preoccuparti! Decoriamo la parete accanto al letto! Facciamolo! Ma che fanno? È più sicuro quando hai un mattello! E' rumore! Non riesco a concentrarmi! Quando finirà? Abbiamo finito con il muro! Badabing! Badabum! Abbiamo un microfono! Amo anch'io cantare! Mettete in fila! È insopportabile! Voglio una tenda per bloccare il rumore! Ora posso leggere in pace! Cantiamo insieme! Ragazze! Ma dove sono andate? Volevo mostrargli la mia stanza! Sorpresa! Fantastica! Ah, il mio letto è pulito e bello ora! Diamante! Hai rovinato il mio letto! Per favore, alzati! Rubino! Guarda! Oh, di nuovo! Non le è piaciuta la pianta! Sono troppo stressata! Devo bloccare gli ospiti indesiderati! Sediamoci qui! Ferma! Guarda che roba! Scusate! Le stalagmiti sono cresciute da sole! Un messaggio! È il compleanno della mia amica! È il suo compleanno! Perfetto! È il suo compleanno! Devo farle un regalo! Buon compleanno, ragazze! Wow! Regali? Wow! Un cuscino di rubino! Un cuscino di smeraldo! Un cuscino di diamanti! È il migliore! Il mio cuscino è il più comodo! Il tuo posto è qui! Ma dove metto tutte queste cose? Lo so! Mi serve uno scaffale! Tutte le mie cose preferite staranno qui! E le mie! E anche le mie! Che audacia! Ho un'idea! Non così in fretta! Prima devi pagare il deposito! Ok! Ecco! Riprendete tutto! Voglio uno scaffale tutto mio! Lo decorerò un po'! Wow! Anch'io avrò il mio scaffale! Il mio scaffale sarà decorato con smeraldi! Wow! Che cornice fantastica! È ricoperta di gemme! È mia! No! È mia! La gemma più grande è la nostra amicizia! È ricoperta di gemme! È ricoperta di gemme! È ricoperta di gemme! È ricoperta di gemme! È ricoperta di gemme!